Uè non fare il tacco incacchiato! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE! DAIE! Uè bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi più passano i giorni e più le novità e le cose un po' strane di questo capitolo numero 2 di Fortnite si fanno più interessanti. Oramai è stata scoperta alla base della montagna più alta questa gigantesca porta di ferro. Ancora non ne sappiamo molto quindi per oggi non ne parliamo ma sicuramente ci sarà tanto da divertirsi anche per scoprire ovviamente che cosa c'è dall'altra parte. Nel video di oggi parleremo ragazzi però del primo grande enorme ed assurdo glitch con la barca. Signori si può volare e non ci sono gli aeroplani vi farò vedere facilissimo volare se non l'hanno già fixato in queste ore con la barca in game e sparare ovviamente. Parleremo però anche del nuovo bundle quello che arriverà tra l'altro con l'update del 5 novembre ci sono già le skin in game ovviamente nei file di gioco ve le farò vedere nuovo set fuoco oscuro e poi ragazzi la leggenda del pesce mistico. Tutti avrete pescato sicuramente con Fortnite voglio sapere se qualcuno ha trovato il pesce mistico sembra per il momento ancora introvabile in giro non ci sono clip ma ieri sono stato leggermente scorretto in quello che vi ho detto e voglio assolutamente sistemare tutte le cose e dirvi che cosa fa veramente questo pesciazzo. Prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi guardano in live su twitch dalle 8 e soprattutto tutti i ragazzi che utilizzano il codice creator xyuderone. Dai raga mi raccomando iscrivetevi in tantissimi ai canali e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live. Prima però la domandina ve la devo fare non posso non farvela ragazzi domanda molto personale forse alcuni non avranno subito una risposta ben chiara ma la domanda è secondo te qual è attualmente la tua arma preferita nel gioco? Ce ne sono tante e io addirittura una non l'ho ancora trovata che è quella pistola leggendaria ed epica che mi sembra molto interessante secondo me però attualmente l'arma più forte è sicuramente il fucile a pompa pesante veramente OP soprattutto se lo si trova chiaramente in versione leggendaria anche perché è veramente molto forte con il close range quindi da vicino però attenzione perché verso le ore 20 21 di ieri sera hanno fatto un piccolo fix dovrebbero essere migliori adesso gli fps e dovrebbero essere corrette le hitbox del fucile a pompa quello il vecchio pompa del nonno in poche parole. Prestiamoci attenzione io registro questo video dopo aver letto la notizia quindi domani mattina o meglio fra qualche minuto lo proveremo insieme con voi in live su twitch. Ma quindi ciancio alle bande e bando alle ciance andiamo subito subito ragazzi a parlare di una implementazione super interessante che vale la pena di sapere ovviamente sto riferendomi alla possibilità di inserire le cuffie in 3d quindi migliorare i suoni che ci circondano addirittura fortnite ha caricato ieri sera un video esplicativo sul suo canale youtube di pochi secondi attivate come vedete la funzione nella sezione audio del vostro gioco mettendo cuffie 3d quindi sì vi posso garantire ragazzi che sarà molto più tridimensionale il suono sia dei nemici che dei forzieri che in generale di tutti gli effetti sonori quindi un piccolo accorgimento che vi consiglio di fare. E andiamo avanti con il prossimo argomento ragazzi il nuovo bundle in game si chiamerà ragazzi il bundle fuoco oscuro darkfire bundle se lo volete chiamare in inglese 30 pleuri già ve ne parlai ben prima della fine della season 10 oggetti leggendarie skill leggendarie mentre ne parliamo ragazzi voglio anche comunque farvi vedere quello che vi sto dicendo in questo momento e quindi con una bel cattura schermo andiamo momentaneamente a dargli un'occhiata come vi dicevo ragazzi tre skin leggendarie la versione oscura di arc la versione dark di accordo potente non vi preoccupate se c'è un po di nero tra una skin e l'altra non so bene perché la terza skin la terza skin è la versione infuocata di asgraval non mi ricordo il nome ufficiale della skin insieme a queste tre skin però il pacchetto non è che offre solamente le skin ma vi garantirà anche tre picconi epici di cui però purtroppo non abbiamo ancora delle informazioni e delle immagini ben precise tre skin per le vostre armi e anche un nuovo balletto per un totale di 13 oggetti da avere per la vostra collezione non mi ricordo ah lui è omen ragazzi dark omen tutto bello infuocato una meraviglia da vedere prima ovviamente di chiudere il terzetto di skin volevo appunto farvi vedere se si sbrigasse accordo poter mettere i pezzi eccola qua la più bella ragazzi se devo essere sincero delle tre carina arc non mi piace omen lei invece ci sta dai diciamo ha un suo perché assolutamente non vedo perché lamentarci è già è vero due secondi li perdiamo anche perché in questo video c'è anche il nuovo starter pack ieri ve ne ho parlato però vi ho fatto vedere solo le immagini invece oggi eccolo qua ragazzi la skin dedicata allo starter pack con tanto di piccone non c'è bisogno di andare a vedere tutta l'animazione quindi la fermiamo momentaneamente qua al piccone davvero davvero interessante tutto il bundle e ovviamente anche la skin dello starter e andiamo avanti con il prossimo argomento ve lo avevo già anticipato ragazzi le barche volanti sono davvero OP voglio farvi vedere di nuovo una clip qua siamo in un giocatore come vedete lui ha la barca ferma praticamente con la parte davanti verso la cascata la cascata più grande che c'è in game quella che appunto dà e basta semplicemente guardate che ci salite e andate in giro belli sciagli allegri e senza disturbo con la vostra barchetta solo che siete a 15 metri dal suolo il che non è assolutamente male per due motivi motivo numero uno la barca spara nessun problema a mirare gli obiettivi motivo numero due se questo glitch lo fate in squad diventate palesemente invincibili veramente tosto per gli avversarvi per gli avversari colpirvi una piccola accortezza la potete ovviamente anche provare se non lo hanno fixato in queste ore come vi anticipavo davvero divertentissimo questo è il primo vero glitch della stagione 1 capitolo 2 di fortnite e andiamo avanti ragazzi con il prossimo argomento oramai sì siamo quasi in chiusura ma parliamo del pesce mistico il mystic goldfish goldfish che oltre ad avere di mistica la rarità ha anche la cosa di essere trovato momentaneamente ripeto non ho trovato una clip di qualcuno che lo abbia pescato ieri vi avevo anticipato che il mystic goldfish faceva le veci dell'ex chug quindi vi dava salute e shield non è così o meglio sembrerebbe non sia così ma questo pesciazzo se lo tirate contro i nemici dovrebbe fare 90 di danno ed è una cosa op perché se veramente fosse così ripeto se qualcuno avesse una clip se qualcuno lo ha pescato vi prego ditemelo questa mattina su twitch in live fatemi vedere il video perché sono curiosissimo deve essere veramente op quindi vi ricordo pesciazzo che insieme a quello viola non da esclusivamente salute addirittura qua danneggia i nemici insomma ragazzi un sacco di notizie anche per oggi per quanto riguarda questo nuovo capitolo di fortnite il quale secondo me passa a ottimi voti la nostra prova il test staremo a vedere ovviamente quello che epic games vorrà fare in questo proseguio di season che terminerà il 12 dicembre io vi ringrazio per aver guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi ai canali noi ci vediamo alle 8 in live su twitch ciao